Ciao a tutti, io sono Tenore Informatico, in questo video sono all'interno della mia Panda e vediamo come smontare i pulsanti o interruttori alza vetro della mitica Panda 169. La mia Panda è dell'anno 2004 e per chi avesse problemi con gli interruttori alza vetro in questo video vediamo come sostituirli. Dopo l'intro andiamo a vedere come fare. Bene cari iscritti siamo di nuovo qui, ci occorre un semplice utensile per fare questa operazione e stiamo parlando di un cacciavite a testa piatta come questo. Purtroppo non dispongo di un testa piatta plastificato per evitare di rovinare la plastica ma comunque stando attenti si evita di rovinare le plastiche anche utilizzando un cacciavite di metallo come questo. Allora, non perdiamo tempo e vediamo come estrarre l'interruttore pulsante alza vetro. Quindi per smontare il nostro pulsante alza vetro dobbiamo prima nella parte in alto fare leva in questo modo con molta delicatezza così sia da una parte che dall'altra anche qui lateralmente sempre stando attenti a non rovinare la plastica. Ok, ci siamo. Eccolo qua, questo è il nostro pulsantino o se preferite interruttore appena smontato. Mi raccomando state molto attenti perché si rischia di rompere gli anelli che vanno a incastro qui nella pulsantiera. Quindi state attenti a non romperli. Invece per smontare i pulsanti dell'alza vetro dobbiamo fare la stessa cosa sia sopra che sotto a degli incastri. Noi da sotto, sempre con delicatezza per non rovinare la plastica, andiamo a tirare stessa cosa poi nella parte sopra e viene via abbastanza facilmente. Ed ecco qua, neanche in un minuto abbiamo smontato l'interruttore alza vetro. Poi qui per togliere il collegamento, quindi il connettore che dà l'input per alzare il vetro e abbassarlo basta qua premere per sganciare definitivamente la pulsantiera dell'alza vetro Panda 169 in modo che così potete sostituirla facilmente. E quindi vi ho fatto vedere come smontare la pulsantiera o interruttore alza vetro della Panda. Vi ricordo la pagina Facebook, iscrivetevi al mio canale attivando le notifiche della campanella per non perdere i miei contenuti video. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, mi raccomando pollice in su e noi ci rivediamo al prossimo tutorial da tenore informatico. Ciao a tutti! Ciao! Ciao! Ciao!